Il Ministero per il Sud dà il via libera per la ZES, la zona a economia speciale. Benché il Molise abbia deciso di venire meno all'alleanza, l'Abruzzo potrà contare così su una zona a carattere regionale. Le ZES sono state istituite tramite il cosiddetto Decreto Sud 91 del 2017 e rappresentano delle aree destinatarie di importanti benefici fiscali e di semplificazioni amministrative, tali da consentire lo sviluppo di imprese in esse già esistenti o che lì si insedieranno attraendo anche investimenti esteri. L'Abruzzo si vede riconosciuto il naturale diritto a poter attivare la procedura a livello regionale, si legge nella nota diffusa dal responsabile dell'ufficio di diretta collaborazione del presidente Enzo Del Vecchio, nella condizione, esclusa la contiguità con altre regioni destinatari di ZES, di poter garantire la presenza di un'area portuale, quale quella di Ancona, sede dell'autorità di sistema portuale che ricomprende quelli di Pescara e Ortona. Presupposto questo determinante per la nascita di una ZES, l'ok è arrivato dal capo di gabinetto del ministro per il Sud, nel frattempo Arap e le strutture regionali, incaricate di elaborare una proposta di massima da sottoporre al confronto con tutti gli stakeholders, hanno proseguito il loro lavoro. In particolare il direttore generale della regione Vincenzo Rivera ha attivato un gruppo di lavoro interdipartimentale al fine di esaminare la documentazione raccolta e predisporre la proposta che il presidente Vicario Lolli farà vagliare ad una serie di enti e organismi con l'obiettivo, entro fine anno, di redigere un piano di sviluppo strategico adeguato al sistema economico produttivo abruzzese, che sappia consolidare e o intercettare, si conclude la nota, nuovi insediamenti produttivi per i quali sono stati previsti importanti investimenti di risorse finanziarie a cominciare dal programma Patti per il Sud Masterplan.